Quali danni può provocare l'esposizione a lungo termine al rumore? Ne parliamo con Fabio Beatrice, direttore del board scientifico di MOR, l'osservatorio mediterraneo per la corretta informazione sulle strategie per la salute e la riduzione del rischio associato a comportamenti scorretti, specialista in otorino e audiologia. Benvenuto Professor Beatrice. Bentrovati, grazie. Professore, cosa si intende per rumore? Iniziamo descrivendo appunto questo fastidioso stimolo. Sì, il rumore è un po' tutto, perché in realtà anche la voce umana è rumore, ma il rumore è fatto di tante cose, gradevoli e non gradevoli. Quindi il rumore della conversazione, il catto degli uccelli, il rumore delle onde marine o del vento. Poi ci sono anche i rumori fastidiosi che sono purtroppo provocati dall'evoluzione tecnologica. Quindi pensiamo al traffico delle grandi città, macchine, moto, camion. Poi ovviamente c'è il grosso problema del rumore presente nell'ambiente industriale. Quindi le nostre produzioni tecnologiche spesso richiedono massioni, attrezzi che producono rumore e quindi possono creare un problema per gli addetti ai lavori. Quindi è un qualcosa di complesso, diciamo che con la tecnologia noi siamo diventati un po' una società di fracassoni. Vi sono tre elementi che caratterizzano il rumore. Quali sono ad esempio? Ma sicuramente è importante del rumore l'intensità che noi misuriamo in decibel. Quindi tanti decibel vuol dire tanto rumore, pochi decibel vuol dire meno rumore e silenzio. Poi ovviamente il rumore può essere legato a varie tipologie di suono. Quindi ci possono essere dei suoni più semplici o ci possono essere dei suoni complessi. Il rumore è legato anche a un problema di riverbero. Se io penso ad esempio a un tram che passa in una strada di città non alberata e neanche tanto spaziosa, si verifica un riverbero sulle pareti dei palazzi e questo ovviamente rende il rumore ancora più fastidioso e nocivo. Quindi è un qualcosa di complesso, ma devo dire che per i telespettatori la cosa fondamentale è comprendere magari che l'intensità la misuriamo in decibel, cioè a livelli di pressione sonora, e che più sono i decibel più il rumore è fastidioso e nocivo. Come si manifestano gli effetti del rumore sull'uomo? Con quali sintomi? Allora il rumore in realtà ha molte implicazioni con l'organismo umano, perché un primo aspetto da tenere presente è che il rumore a certi livelli, neanche poi così alti, parliamo di livelli sui 60-65 decibel, che sono dei livelli rapportabili anche talora a una conversazione a voce elevata, se non, diciamo, traffico non molto intenso, già finisce per disturbare il sonno e quindi già un rumore che disturba il sonno è in grado di provocare stress, è in grado di provocare vari altri tipi di alterazione sull'organismo, quindi affaticamento al giorno dopo, diminuzione della concentrazione, eccetera. Il rumore in quanto tale in realtà può determinare proprio degli effetti fisici, perché può determinare un aumento della secrezione gastrica, può determinare un aumento della pressione, può determinare un transitorio affaticamento uditivo, cioè temporaneamente noi sentiamo un pochino meno e tutto questo evidentemente ha riflessi sulla nostra salute. In certe situazioni però il rumore, se noi siamo cronicamente esposti, queste sono circostanze che si verificano soprattutto in occasione, diciamo, di attività lavorativa, se siamo cronicamente esposti al di sopra degli 80 decibel, ma con maggiore evidenza per livelli di rumorosità superiori a 85 decibel, andiamo incontro a delle vere e proprie lesioni nel receptore, che si chiama organo del corti, cioè lì dove le cellule uditive trasmettono il suono per le vie nervose al cervello. E allora purtroppo questo danno è un danno che poi non è rimediabile, è permanente ed è estremamente importante dire che si verifica precocemente nei primi anni di esposizione al rumore. Poi ci sono evidentemente anche una serie di patologie di ordine generale che possono rendere più sensibile l'orecchio all'effetto del rumore. Parlo per esempio del diabete, di malattie della circolazione, e quindi diciamo è un argomento abbastanza complesso, spesso il danno da rumore si accompagna a un fastidioso disturbo che sono gli acufeni, quindi il soggetto sente dei ronzii, oppure sente dei fischi, insomma sente dei rumori che non esistono nell'ambiente circostante, il cosiddetto rumore fantasma. Ovviamente la presenza di acufeni non è necessariamente accompagnata a un'ipoacusia, cioè una perdita uditiva. Ci sono anche persone che hanno acufeni in presenza di una buona capacità uditiva. Allora in questi casi il rumore potrebbe essere indirettamente responsabile perché potrebbe influenzare per esempio il sonno notturno, perché è noto che in una buona percentuale di persone che soffrono di acufeni il vero problema è il sonno notturno e quindi il rumore anche lì può funzionare da terzo incomodo anche se apparentemente non viene considerato. Con quali sintomi bisogna rivolgersi al medico? Allora se si hanno degli acufeni e cioè dei rumori nelle orecchie che si sentono soprattutto nel silenzio, quindi la notte, conviene comunque rivolgersi al medico e fare sempre una visita specialistica o torino laringoiatrica e un esame audiometrico. Ovviamente una causa banalissima di rumore, una delle più frequenti, è la formazione di un tappo di cerume. In questo caso la diagnosi è semplice perché lo specialista vede il tappo e lo rimuove dopo averlo solubilizzato con dei prodotti specifici per qualche giorno. In questo caso tolto il tappo, tolto il dente e finisce il dolore. Quindi tolto il tappo il disturbo si risolve. Se poi si accorge di non sentire il telefonino, il suono del telefonino, di tenere il volume della televisione troppo alta oppure per esempio di non percepire certi suoni di allarme, allora converrà a rivolgersi allo specialista o torino laringoiatra o audiologo, eseguire sempre un esame audiometrico perché spesso e volentieri la visita in questi casi può anche essere assolutamente normale e quindi occorre accompagnare la visita con un esame audiometrico e in questo modo è possibile fare la diagnosi. Insomma è una diagnosi che se si seguono le procedure corrette è abbastanza semplice, si tratta di esami assolutamente non dolorosi, ovviamente diciamo col passare degli anni possono subentrare problematiche come la presbiacusia, inutile dire che noi oggi attenzioniamo molto l'esagerato uso in cuffia di cellulari o di musica a volumi troppo elevati e quindi fare prevenzione vuol dire godere di tutto quello che l'ambiente può offrirci, compresa la musica, ma cercare diciamo di limitare il volume anche perché molto francamente ascoltare musica a livelli estremamente elevati, in macchina o in cuffia, non migliora la qualità dell'ascolto perché oltre a certi livelli il rumore va in distorsione e quindi un buon ascolto non richiede volumi esagerati ma richiede diciamo volumi adeguati, è cosa dire. Professore, la diagnosi in questi casi, nei casi appunto in cui un paziente lamenta dei disturbi nell'ascolto, lo abbiamo accennato, con quali esami? Ma allora, sicuramente una visita con una otoscopia e conviene guardare anche il naso e la bocca perché diciamo le parti sono sempre collegate tra loro. L'esame audiometrico è un esame molto semplice, consiste nell'applicazione di una cuffia, il paziente viene messo in una cabina insonorizzata, riceve un pulsantino, viene mandato prima nell'orecchio destro e poi nell'orecchio di sinistra una serie di suoni diciamo di diverse frequenze nell'ambito dell'audibilità umana e questi suoni diciamo alla più piccola percezione di questo suono il paziente deve schiacciare un pulsantino segnalando quindi al medico che fa l'esame segnalando l'avvenuta percezione di questo BBB. Questo si fa per l'orecchio destro e per l'orecchio sinistro, poi si applica una seconda cuffia che si viene detta vibratore mastoideo perché si appoggia in questa zona, una cuffia un po' strana, ma l'esame dal punto di vista del paziente funziona sempre nella stessa maniera. Ovviamente si possono fare altri esami di approfondimento, alcuni come l'impedenzometria, si ricerca sostanzialmente la corretta elasticità della membrana timpanica e dei movimenti che la membrana timpanica fa se riceve dei suoni acuti, questo è il riflesso stapediale, è possibile poi evidentemente fare un'audiometria anche utilizzando delle parole test o delle parole prive di significato che il paziente deve ripetere e questa è la cosiddetta audiometria vocale, esiste poi una procedura di verifica ancora più complessa che è quella di mandare dei suoni e di registrare con apposite apparecchiature delle variazioni nella percezione del suono a livello cerebrale, cioè l'elettroencefalogramma opportunamente lavorato risponde alla percezione del suono. Questo è un esame che serve a validare le prove precedenti, devo dire che però nella clinica di tutti i giorni l'esame fondamentale è quello audiometrico che è anche quello previsto dalla legge per la prevenzione dei danni da rumore, per il riconoscimento di invalidità, per le varie idoneità alla guida eccetera, quindi c'è assolutamente una centralità di questo esame che comunque deve essere eseguito nel rispetto di linee guida e di procedure di buona pratica, se l'esame viene eseguito in questa maniera il suo dato è assolutamente attendibile. Professore, in quanto a terapia, cosa fare in questi casi? Allora, purtroppo i danni da rumore richiedono effettivamente un'importante azione della prevenzione, questo ha a che vedere col concetto di salute, perché prima della prevenzione viene la salute, allora noi la prevenzione per esempio la possiamo fare nell'ambiente di lavoro dotando nelle fasce a rischio, cioè al di sopra degli 85 decibel per un certo numero di ore al giorno, dotando di cuffie o di tappi i lavoratori che devono essere poi anche invogliati a utilizzarli, perché a volte questi device danno dei problemi di sopportabilità, perché tendono a isolare un po' la persona, quindi lì facciamo prevenzione, però in realtà promozione della salute uditiva vuol dire esporsi meno possibile a rumori esagerati, quindi andiamo pure ai concerti, andiamo pure in discoteca, ma evitiamo di stare nel punto assolutamente più rumoroso tutti i giorni per un numero esagerato di ore al giorno, quando questo sarà possibile, evidentemente speriamo il più presto possibile, cerchiamo quando ascoltiamo la musica in cuffia di non utilizzare dei livelli di rumore esageratamente elevati che peraltro pregiudicano una buona qualità dell'ascolto e ovviamente diciamo per quanto riguarda gli ambienti urbani facciamo in modo di abitare in case con finestre opportunamente schermate per il rumore se abitiamo in centro, adesso si può anche approfittare da questo punto di vista della scontistica dello Stato, quindi è il momento di cambiare le finestre che possono proteggervi dal rumore e possono proteggervi anche diciamo dalle basse temperature esterne. Quindi l'altra cosa che non tutti dicono è che dobbiamo immaginare delle strade molto alberate, con viali molto grandi, questo purtroppo in un paese antico come l'Italia non sempre è fattibile, però nei borghi di origine medievale o nei borghi più piccoli le macchine non passano e quindi il rumore non c'è. L'altra cosa nella quale bisognerebbe avere un minimo di civiltà comportamentale è il problema della movida, si lamentano tutti nelle grandi città Torino, Napoli, Roma, nei punti della movida notturna i ragazzi esagerano nel gridare, nel fare rumore e questo magari compromette il sonno di persone che abitano in quelle zone al primo o secondo piano. Quindi anche un comportamento più civile e rispettoso delle altre persone è un qualcosa su cui possiamo certamente agire. Professore, adesso parliamo anche di terapia. Ecco, a proposito di questo discorso, la legge sulla prevenzione dei danni da rumore, cosa dice? Perché lei ha giustamente parlato... Allora, la legge impone una sorveglianza ad 80 decibel, l'inizio della sorveglianza ad 80 decibel nell'ambiente di lavoro, perché al di sotto degli 80 decibel è pieno di rumori potenzialmente nocivi che in realtà non sono dovuti all'ambiente di lavoro. basti pensare che un tram produce un rumore intorno ai 70 decibel, un traffico urbano sui 65 decibel, un aspiratore supera i 70 decibel, quindi dobbiamo collocarci al di sopra di questi livelli di rumorosità. Al di sopra degli 85 decibel diventa assolutamente indicato e obbligatorio per legge l'uso di protettori acustici individuali che se opportunamente calzati abbassano di parecchi decibel il livello di rumore, quindi anche se tu lavori intorno ai 90 decibel, se metti bene i cucchi e tappi, il rumore che arriva alle orecchie è al di sotto degli 80 decibel e quindi non è nocivo. Il trattamento. Purtroppo, diciamo, non esiste un trattamento del trauma acustico cronico, del rumore cronico, perché implica un danno di cellule che sono le cellule ciliate, che sono i sensori dell'udito collocati all'interno dell'organo del cortico, cioè del settore dell'orecchio, e quindi il danno non è rimediabile sostanzialmente. Se si è stati esposti a un rumore molto acuto, per esempio il colpo di un fucile, eccetera, possono essere opportuni trattamenti in acuto che si avvalgono anche di cortisonici, di diuretici, di cortisonici che possono essere somministrati in certi casi, addirittura localmente, nei intratimpanici, eccetera, però si tratta di eventi acuti nei quali il timing, cioè il tempo di intervento che noi abbiamo è estremamente breve, quindi in questo caso conviene rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, perché sappiamo che se interveniamo entro le 24-48 ore è preferibile. Purtroppo nulla c'è da fare per le perdite uditive di tipo congenito e le dita. Ecco, in questi casi però l'udito può tornare ad essere sano, quindi il danno è reversibile. Nella esposizione a rumore acuto il danno può essere reversibile se viene però rapidamente conosciuto e rapidamente trattato. Ovviamente c'è anche un problema di variabilità individuale, perché non tutti siamo resistenti alla stessa maniera al danno, è proprio per questo che in questo argomento, cioè nel danno da rumore, conviene muoversi veramente a protezione della salute e in prevenzione. In prevenzione. Perché poi una volta che ci sono i problemi non si torna più indietro ed è spiacevole. Certo, abbiamo sempre la possibilità di tentare nei casi non risolvibili con delle medicine la protesizzazione acustica, cioè mettere gli apparecchietti. Oggi come oggi la cosa viene vissuta un po' diversamente rispetto a una volta, perché si assiste sempre di più a un'integrazione dell'essere umano con elementi tecnologici che possono aiutare il deficit di alcune funzioni. Pensiamo agli atleti con gambe artificiali o arti artificiali, eccetera. Quindi gli occhiali li usiamo praticamente tutti. Quindi oggi anche le protesi auricolari vengono utilizzate molto di più di una volta e con minore resistenza. richiedono evidentemente un percorso, un setting di preparazione del paziente, perché mettere una protesi uditiva non è come mettere un paio d'occhiali che devi adattare all'uso, deve esserci un computer e un tecnico che tarano opportunamente l'apparecchio, la taratura avviene grazie anche alla collaborazione del paziente che deve essere protesizzato, quindi è un messiere di una certa complessità, ma la rimediabilità dei danni uditivi anche da rumore rispetto a una volta sicuramente migliora la rumore. Professore, ci sono delle novità appunto parlando di protesizzazione acustica oggi rispetto al passato? Sì, oggi noi abbiamo delle protesi di generazione digitale nelle quali diciamo la la taratura, la regolazione della protesi che una volta veniva fatta banalmente con una piccola rotellina o la vitina del paziente, oggi la cosa è molto più tecnologica perché vengono esaminati approfonditamente tutti gli aspetti della vita della persona che deve essere protesizzata e quindi con queste protesi è possibile anche mascherare alcuni rumori esterni, è possibile quindi che le protesi intervengano in certe situazioni e non in altre grazie alla programmazione elettronica e alla grande competenza della categoria professionale degli audioprotesisti oggi si riesce veramente a ottenere una rimediazione estremamente avanzata c'è da dire peraltro che nei soggetti che soffrono di acufeni hanno un deficit uditivo l'indicazione alla protesizzazione è terapeutica anche rispetto agli acufeni perché si ha un beneficio a sgravare l'orecchio della fatica uditiva perché comunque non sentire bene implica un importante sforzo di attenzione la cosa che vorrei dire è che se si ha un danno da rumore e non si sente bene il televisore non è la protesi lo strumento corretto con cui sentire il televisore ai fini solo dell'ascolto del televisore è preferibile utilizzare delle cuffie esistono quelle cuffie in wireless senza fili e quindi possiamo sentire il televisore anche se non sentiamo bene senza disturbare il sonno delle persone che abbiamo in casa e quindi si tolgono gli apparecchi e si mettono le cuffie in questo caso gli apparecchietti sono assolutamente importanti per la vita di relazione per avere a che fare con gli amici magari con i nipoti se si tratta poi di persone professionalmente impegnate ci aiuterà nelle riunioni insomma è opportuno dire che si vede molto di più una persona che non sente rispetto a una persona che sente ben protesizzata professore lei prima ha accennato ai farmaci ecco qual è il limite tra il paziente che può essere curato solo con i farmaci e il paziente che invece ha bisogno di una protesi acustica allora nel trauma acustico cronico il farmaco come abbiamo detto fa poco perché c'è proprio una lesione fisica del recettore quindi purtroppo gli altri recettori manderanno dei pezzi della voce o comunque dei suoni che vengono ascoltati al cervello entro certi limiti il cervello compensa il danno oltre certi limiti il cervello non riesce a compensare nelle problematiche acute o nella fatica auditiva cioè se si è stati esposti per esempio a un concerto eccetera l'organismo ha una certa elasticità di recupero cioè queste cellule se funzionano troppo si presentano di quelli che noi chiamiamo cataboliti cioè di sostanze che ingombrano la cellula stessa e le impediscono di funzionare bene la cellula è dotata di spazzini interni per cui poi si libera di queste sostanze quindi la fatica auditiva di un occasionale concerto in genere nelle 24 ore successive si risolve chiaramente farmaci che sono a base di vitamina B e quindi proteggono il nervo quindi alcuni integratori o farmaci proprio antinfiammatori che possono migliorare la reazione infiammatoria determinata diciamo del rumore possono essere utili però non è che a livello farmacologico noi abbiamo qualcosa di risolutivo è proprio un argomento il rumore nel quale l'importanza della prevenzione e della promozione di un organo sano quindi di una condotta di vita moderata rispetto l'ascolto e non tirata al massimo è sicuramente la cosa migliore da fare Quali sono le iniziative di MOR dell'osservatorio in questo settore? Ma allora MOR è assolutamente interessato alla promozione della salute purtroppo la promozione della salute anche del nostro udito passa attraverso uno stile di vita sano non tutti sanno che per esempio fumare oltre a certi livelli compromette l'apparato circolatorio e compromette anche la prestazione uditiva quindi sicuramente è bene non fumare perché questo funziona da volano per una serie di patologie che possono compromettere la salute uditiva per esempio se avete il diabete e fumate il vostro diabete peggiorerà notevolmente ma anche una dieta sana una dieta varia ovviamente aiuta l'organismo a stare in salute e rallenta il processo di invecchiamento o comunque fa sì che il fisiologico processo di invecchiamento avvenga secondo canoni più fisiologici e non anticipati ovviamente l'altra questione evidentemente molto interessante è quello di come noi dobbiamo pensare le nostre città e lo sviluppo delle nostre città perché questo passa attraverso una maggiore quantità di verde perché il verde oltre a essere bello da vedere è anche un'importante forma assorbente cioè dimostrato che grandi viali dotati di alberi e di siepi espongono le case gli abitanti delle case a minore rumore poi ci sono altri aspetti estremamente interessanti sui quali è la nostra attenzione l'uso nelle città di asfalti fonoassorbenti che quindi al passaggio della macchina fanno meno rumori ovviamente la trazione elettrica o di altra natura in città va assolutamente sollecitata perché è una trazione che avviene senza grandi rumori quindi dobbiamo in qualche modo ripensare anche la mobilità urbana e quindi gli aspetti sui quali noi interveniamo sono moltissimi evidentemente li attenzioniamo a livello scientifico e li dibattiamo all'interno del gruppo di esperti per poi divulgare queste informazioni in maniera semplice sul sito di More che io vi suggerisco di seguire periodicamente perché è veramente ricco di informazioni che vengono opportunamente filtrate da giornalisti professionisti in modo che il sapere scientifico diventi un sapere alla portata di chiunque e non soltanto un sapere in cui sostanzialmente i medici o gli esperti parlano tra di loro restano incomprensibili per il prossimo quindi il nostro obiettivo è non solo fare informazione e formazione scientifica ma anche fare divulgazione e rendere la scienza fruibile a tutti perché si ha bisogno se si vuole migliorare su queste cose di fare squadra non basta che siano attivi soltanto gli esperti la squadra si fa con le persone e con la gente grazie professor Fabio Beatrice direttore appunto ricordiamo del board scientifico di More l'osservatore mediterraneo per la corretta informazione sulle strategie per la salute e la riduzione del rischio associato a comportamenti scorretti specialista in otorino e audiologia grazie ancora per essere stato qui con noi oggi il nostro ospite grazie un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti